Qual è la differenza tra la tesi triennale e la tesi del biennio, la tesi magistrale? Io sono Daniele Vinci, tengo corsi di metodologia della ricerca presso la facoltà dove insegno, seguo questo canale che è dedicato alle questioni pratiche della ricerca accademica e ho curato il manuale di metodologia generale che segue passo passo nella realizzazione di un elaborato curricolare. Chi volesse maggiori dettagli li troverà qui sotto. Vediamo innanzitutto le differenze più importanti e poi vediamo gli elementi di identità, ciò che rimane identico. Le differenze più importanti sono 4 più 1. La prima riguarda la terminologia, cioè il modo con il quale questi elaborati vengono chiamati, perché solitamente la parola tesi, la definizione tesi, viene riservata alla tesi magistrale, cioè a quella del biennio, all'elaborato del biennio. Mentre l'elaborato conclusivo della triennale viene chiamato appunto elaborato conclusivo, qualche volta paper. Però in alcune facoltà e in alcuni istituti, quando si parla di tesi, di fatto si intenderà addirittura la tesi di dottorato. Ora, al di là di queste differenze terminologiche, che possono dipendere dagli statuti e dai regolamenti delle varie facoltà e dei vari istituti, nell'uso quotidiano si parla genericamente di tesi e di discussione della tesi, ma è importante tenere presente queste differenze, perché poi nel nostro elaborato, nel frontespizio, dobbiamo riportare la dicitura corretta. Scrivete nei commenti qui sotto qual è l'uso della vostra facoltà, del vostro istituto, cioè come nella vostra facoltà e istituto si chiamano l'elaborato conclusivo della triennale e quello del biennio. Così confrontiamo i vari usi e costumi. La seconda differenza, decisamente più importante, direi anzi decisiva, è il tipo di taglio da dare ai due elaborati. L'elaborato della triennale ha un taglio più sintetico, direi più generale, mentre il taglio della tesi magistrale è più analitico, più approfondito, più delimitato. L'esigenza di scegliere bene l'argomento e di delimitarlo c'è sempre, sia per l'elaborato della triennale, sia per quello del biennio, ma è una delimitazione che diventa molto più focalizzata, molto più mirata nel caso della tesi magistrale. Ricordo che alla scelta dell'argomento ho dedicato un tutorial che è l'inizio di un ciclo di cinque tutorial su come iniziare un percorso di tesi. Questa differenza rispecchia il corso stesso degli studi, cioè il triennio ha un taglio più introduttivo, mentre il biennio è più, per così dire, specialistico. Può anche essere, per esempio, che nell'elaborato della triennale si è incoraggiato un certo taglio interdisciplinare, cioè che l'argomento possa toccare anche, pur restando delimitato, possa toccare discipline diverse. Mentre per quel che riguarda il biennio, come si diceva, si è molto più focalizzati, cioè è molto più approfondito e mirato il lavoro di ricerca richiesto. Questa differenza di taglio si riflette sulla terza differenza, cioè la bibliografia. Ora, la bibliografia dell'elaborato della triennale potremmo dire che è essenziale nel duplice senso. È essenziale nel senso che dobbiamo trovarvi i testi più importanti, i testi di riferimento sull'argomento che è stato scelto, ma è essenziale anche nel senso che è relativamente contenuta, cioè non è molto ampia. Ovviamente può anche essere molto ampia, ma tendenzialmente non è molto ampia. Al contrario, invece, nella tesi magistrale la bibliografia è molto sviluppata, dovrebbe essere molto sviluppata e dovrebbe contenere, oltre i testi essenziali che si è detto, altri testi di approfondimento. Inoltre, solitamente, nella tesi magistrale dovrebbero essere presenti anche testi in una lingua che non sia solo quella italiana, quindi testi in altre lingue. E questa è una conseguenza dell'approfondimento, perché se io vado a fondo su un argomento e su alcuni aspetti specifici di quel certo argomento sono portato necessariamente a confrontarmi con degli studi, con degli articoli, con dei documenti che non sono soltanto in lingua italiana. E arriviamo alla quarta differenza che riguarda le proporzioni dell'elaborato. Ora, orientativamente, perché adesso do dei dati orientativi, poi scrivete nei commenti qual è l'esperienza nella vostra facoltà, nel vostro istituto. Ecco, orientativamente, si può dire questo. Il paper, cioè quell'elaborato, che a volte viene chiesto nei primi anni di studio, ha più o meno 10-15 pagine di estensione. L'elaborato della triennale ha orientativamente 40-60 pagine, quindi va dalle 40 alle 60 pagine. La tesi magistrale, invece, supera facilmente le 100 pagine e orientativamente si va dalle 120 alle 150 pagine. Mentre per quel che riguarda la tesi di dottorato, qui si arriva facilmente alle 300 e alle 400 pagine. Ovviamente, quando parliamo di numero di pagine, intendiamo tutto il testo, quindi dal frontespizio sino all'indice finale. Ovviamente queste differenze, come si diceva, possono cambiare da facoltà e da istituto. È chiaro che questa differenza di estensione significa anche un maggior impegno in termini di tempo, ma su questo dedicherò il prossimo tutorial, su quanto tempo è richiesto per scrivere una tesi, ovviamente a seconda della tipologia di tesi. Ma veniamo invece agli elementi di identità. Che cos'è che rimane identico nei due elaborati? Allora, innanzitutto, quello che rimane identico è quella che rimane identica è la struttura dell'elaborato stesso, ovvero la suddivisione tipica di un elaborato curricolare con frontespizio, introduzione, capitoli, paragrafi, conclusione, bibliografia e indice. Ovviamente l'indice può essere anche messo all'inizio, ma non cambia. Quindi la struttura tipica con alcune variazioni rimane la stessa dalla triennale al bienio sino alla tesi di dottorato. Ma soprattutto ciò che rimane identico è l'aspetto metodologico, cioè i grandi principi della metodologia rimangono gli stessi. L'esigenza della chiarezza, della completezza e soprattutto della coerenza rimane identica, ovvero non c'è una metodologia per chi è agli inizi e una metodologia per chi è più esperto. Non c'è una metodologia per lo studente e una metodologia per il docente. La metodologia, cioè i grandi principi di cui si diceva, restano esattamente gli stessi. Quindi per esempio il fatto di applicare in modo coerente il modello citazionale, questa esigenza è esattamente la medesima. Ecco, nel caso magari della triennale, questa esigenza, la correttezza metodologica è in primo piano, cioè lo studente deve dimostrare di essere idoneo rispetto alla ricerca scientifica proprio attraverso l'utilizzo della metodologia corretta. Mentre nel caso della tesi magistrale questa capacità si dà in qualche modo per scontata, cioè deve essere evidente, per concentrarsi maggiormente sulla originalità della tesi stessa. E terminiamo con una variabile, quella a cui accennavo all'inizio, che può cambiare e di molto quello che si è detto sinora, ovvero il nostro docente, il docente che segue la nostra tesi. Perché si può andare da un estremo all'altro. Possiamo, come dire, farci seguire da un docente che richiede un livello di elaborato della triennale che si avvicina molto a quello di una tesi magistrale. Per esempio, un docente che ci chiede di sviluppare ampiamente la bibliografia e di esaminare testi in altre lingue. E questo ovviamente è impegnativo. Ma un docente può anche fare il discorso, per così dire, opposto. Cioè può dirci, guardi, sacrifichiamo qualcosa del livello dell'elaborato della triennale, quindi presentiamo un testo che abbia la dignità necessaria, perché poi nel biennio, nella tesi magistrale, faremo un lavoro più mirato, approfondito, originale e magari innovativo. Quindi il docente che scegliamo può decisamente accentuare e non di poco le caratteristiche che abbiamo visto precedentemente. Mi auguro di aver aiutato a chiarire la differenza tra i due tipi di elaborato. Scrivete qui sotto nei commenti qual è l'esperienza della vostra facoltà del vostro istituto e ricordo che è possibile iscriversi a questo canale attivando la notifica in modo da essere aggiornati sulle sue novità ed è possibile contattarmi. Buona tesi triennale, buona tesi magistrale e buona tesi di dottorato a tutti.